Da anni si parla di una fusione fra Cass e Anas, ma poi nulla di concreto è stato fatto. Le gare e gli appalti del Cass sono state al centro di inchieste, con una governance e una gestione che è stata accusata di connivenza e corruzione. Ora le autostrade sono in condizioni pietose e non in sicurezza, ma le istituzioni non intervengono. Sentiamo cosa ne pensa l'esperta del Ministero dei Trasporti, Nadia Luciano, che aveva denunciato alcune incongruenze. La fusione Cass e Anas è un emendamento che già era stato proposto nel vecchio governo, che era passato in Commissione regionale bilancio con l'approvazione da parte della tesoreria regionale, però si è renato poi in aula, nonostante ci fosse stata un'approvazione da parte della Commissione del bilancio. Ad oggi sentiamo soltanto annunci da parte dell'attuale governo regionale, ma credo che resteranno soltanto annunci perché l'ultimo emendamento con relativa relazione illustrativa che è stata da me predisposta si è fermato ad agosto del 2017 e da quel momento non mi risulta, potrei anche sbagliare, che siano stati portati altri atti in Commissione regionale. Tra l'altro va detto che sembra assai improbabile che l'attuale governo possa portare in Commissione l'atto, la relazione illustrativa necessaria per l'emendamento per la fusione Cass e Anas in Commissione perché la relazione necessita di una firma di chi ex legge ne ha il potere. Credo che tale evento di fusione non vedrà luce non prima del 2021. C'è una sovrapposizione da parte delle leggi regionali che non possono sovrapporsi per competenza e per materia alla legislazione nazionale e devo dire che questo è stato rinvenuto negli atti del Cass che tendono a sovrapporsi alla legislazione nazionale, quindi innanzitutto occorrerebbe fare un riordino e adeguare il modello del Cass Anas, che sono stati rinvenuti negli atti del Cass, a quello che poi è il modello nazionale. Se prima non si fa questo passaggio non è possibile operare e attuare una corretta manutenzione e gestione delle autostrade siciliane. Proprio in questo il governo attualmente in carica, dopo quello che è successo ai fatti di Genova, insomma sembra avere un particolare interesse affinché le manutenzioni vengano rispettate. Qual è la situazione adesso invece? Ma attualmente mi sembra che ci sia un po' di confusione perché ricordiamo che il Cass Anas è un consorzio per le autostrade siciliane che si occupa soltanto di gestire attualmente tre lotti, diciamo così, delle autostrade. Non tutte le zone delle autostrade siciliane sono gestite dal Cass. In realtà il Cass si occupa soltanto della Messina Siracusa, della Siracusa Gela e della Messina Palermo. Per il resto poi è competenza dell'Anas. Il governo regionale mi sembra un po' in confusione perché da un lato chiede l'intervento del Ministero per una gestione straordinaria e da un lato quindi chiede un commissariamento. Dall'altro, potrei anche sbagliarmi, mi è sembrato di capire ieri che il governo si sia lamentato di una carenza di intervento da parte dello stesso Ministero. delle due l'una, o vogliamo l'intervento del Ministero nella gestione delle autostrade o ci affidiamo al Consorzio Autostrade Siciliane.